Agricoltori di nuovo in piazza, oggi serve ossigeno al comparto in ginocchio a causa della crisi economica europea. La manifestazione è stata promossa da Coldiretti che chiede l'erogazione immediata da parte della regione di aiuti alle aziende lucane. Emergenza coronavirus continua la fase di discesa dei contagi in Basilicata e l'incidenza settimanale scivola sotto quota 1000 e migliora secondo i dati forniti dalla cabina di regia la situazione nei reparti ordinari ma la lente si sposta sulle terapie intensive e sui decessi. A potenza e giallo sulla morte di Vito Vaccaro che nel 1999 uccise la sua professoressa delle scuole medie, l'uomo è stato ritrovato morto in casa in circostanze da chiarire. A pochi giorni dopo il funerale la procura ha fatto scattare la riesumazione. Ieri nella cornice naturale della perla del Tirreno la seconda giornata del premio internazionale marateale a catturare l'attenzione del pubblico del Santa Venere e Lodine, la veste di attrice, per la sua partecipazione al film Ti Mangio il Core. Calcio Serie C ancora in campo, il Picerno è impegnato ieri al Curcio nel triangolare con la primavera del club Melandrino e una rappresentativa locale con un capitano esposito in grande spolvero. E come ogni venerdì ci sarà in studio a fine TG il nostro esperto Gaetano Brindisi per il punto sulle condizioni meteo in regione nel weekend. Buon pomeriggio dallo studio della nuova TG per ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale che come abbiamo sentito dai titoli apriamo con la crisi del comparto agricolo lucano, sbloccare subito le risorse destinate alle aziende con la legge di bilancio per combattere la grave crisi del settore e la richiesta che arriva da parte di Coldiretti che oggi ha riunito oltre 300 agricoltori e contrattori al seguito a Potenza. Sentiamo Celestino Benedetto. Contro la crisi in agricoltura è necessario che le istituzioni facciano la propria parte ed intervengano subito soprattutto rispetto alla speculazione del grano e alle pratiche sleali. Oltre 300 agricoltori e contrattori al seguito si sono riuniti a Potenza nell'Assemblea Popolare promossa da Coldiretti, sbloccare immediatamente le risorse destinate al settore agricolo dalla regione con la legge di bilancio 2022 e avviare da subito la procedura per la siccità ed ancora sostenere accordi di filiera tra imprese agricole e industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione. Queste le proposte illustrate a partire da un appello alla regione a fare la propria parte rispetto soprattutto ai sostegni di 9 milioni di euro che giacciono fermi nei cassetti dell'assessorato. Agire immediatamente, mettere a terra le risorse importanti che grazie all'azione della Coldiretti siamo riusciti a far inserire nel bilancio regionale e per questo va un ringraziamento particolare al Presidente Bardi che ha accolto le nostre richieste con tutto il Consiglio regionale. Però questo non basta perché sono passati ormai mesi e l'assessore a ramo e il Dipartimento non agiscono per dare queste risposte immediate. Leggiamo di proclami e leggiamo di avvisi che non vanno nell'indirizzo che avevamo indicato come Coldiretti anche al tavolo verde che seppur istituzionale non viene riconosciuto come tale. Un esempio, viene data la notizia dopo la nostra mobilitazione di un bando di 7 milioni di euro che vedrà la luce solo come istruttoria marzo 2023. Temi ripresi con forza anche dal direttore della Coldiretti Aldo Mattia con un forte richiamo al governo regionale. Gli appelli basta, ci siamo stufati di sentire abbiamo deliberato ma dal deliberare all'attuare come al solito passano gli anni e quando passano gli anni quel deliberato non serve più. Sarebbe meglio che qualcuno e in particolare l'attuale assessore all'agricoltura la smettesse di annunciare finanziamenti e contributi a destra e a manca e li desse veramente. Ma l'attenzione di Coldiretti è rivolta anche alle pratiche sleali con la richiesta di rendere subito operativa la nuova legge di contrasto. Noi poniamo in essere il rispetto della legge sulle pratiche sleali che è stata approvata sei mesi fa a livello comunitario e ricevuta circa un mese fa dallo Stato membro. Chiederemo alle CQRF, le ex repressioni e frodi, di fare i controlli a tappeto sui primi acquirenti, grandi distribuzioni perché questa legge va rispettata ed è l'unica possibilità che ha l'imprenditore agricolo di poter guadagnare qualcosa di più. E vediamo quali sono i dettagli della misura che è stata messa in campo dal governo Lucano per favorire le aziende lucane. Rocco Romanelli. Un aiuto straordinario alle imprese agricole con una spesa complessiva di 7 milioni di euro è stato deciso dalla Giunta regionale attraverso un avviso pubblico proposto dall'assessore per le politiche agricole e forestali Francesco Cupparo. Si tratta, precisa l'assessore, di una misura di sostegno temporaneo ed eccezionale in attuazione della legge di stabilità regionale 2022 con la quale sono stati previsti contributi straordinari per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica internazionale. Alla copertura finanziaria si viene incontro con fondi regionali per 4 milioni di euro e con fondi programma operativo Valdagri-Senisese-Ripov 2020-2021 per 3 milioni di euro. L'importo totale degli aiuti concessi ad un'impresa unica non può superare i 25 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'aiuto, una tantum, è erogato sulla base di un importo forfettario per fronteggiare i maggiori costi sostenuti a causa dei notevoli incrementi della spesa di gestione aziendale riguardanti principalmente energie a fertilizzanti, materie prime e mangimi. L'impresa deve dichiarare un fatturato 2021 pari ad almeno 7 mila euro e di aver registrato un aumento dei costi produttivi di almeno il 25% nel periodo di tempo 1 gennaio 31 luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno in corso. L'aiuto è erogato in forma forfettaria ad avversare entro il 15 ottobre 2023 in base alle domande di sostegno approvate entro il 31 marzo 2023. L'importo massimo del sostegno non è superiore ai 15 mila euro per agricoltori e a 100 mila euro per le piccole e medie imprese. Sostenuti i processi di filiera, quale scelta organizzativa che favorisce l'integrazione fra le diverse fasi del processo produttivo e la commercializzazione. Per rispondere al disagio delle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni di residenza a causa di eventi calamitosi, la Giunta regionale ha approvato il provvedimento di variazione di bilancio che prevede lo stanziamento delle risorse necessarie a soddisfare il sostegno agli affitti a favore dei cittadini colpiti da ordinanza di sgombero. I comuni interessati dal contributo economico che potrà essere ora erogato in tempi rapidi sono Aliano, Castronuovo di Sant'Andrea, Irsina, Lago Negro, Lauria, Maratea, Pisticci e Pomarico. Ieri sera a Monte Scaglioso, una frana, ha interessato un'area rurale in località Grilla sulla strada provinciale per Ginosa. A causare lo smottamento è stata la rottura di una condotta idrica di acquelle. Il movimento franoso ha compromesso la rete del gas che si è rotta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno immediatamente rilevato la fuoriuscita del gas facendo intervenire il gestore che con i tecnici del comune hanno ripristinato il guasto consentendo agli operatori di acquedotto Lucano di riparare la condotta in sicurezza. E inoltre il governo Lucano ha stanziato 410 mila euro a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della riprogrammazione dei fondi di sviluppo e coesione per i lavori di manutenzione straordinaria ed alcune opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre del 2019 a Policoro e a Valsini. Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione in zona Lido e Via Lazio a Policoro per un importo di 190 mila euro, del ripristino dei danni al cimitero comunale di Valsini per una spesa di 63 mila euro e di quelli di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione nel centro urbano per i quali sono stati stanziati 116 mila euro. Poco meno di 50 mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza dell'istituto comprensivo Isabella Morra di Valsini. Veniamo all'emergenza. Coronavirus continua la fase di discesa dei contagi in Basilicata e l'incidenza settimanale scivola sotto quota mille. Migliora secondo gli ultimi dati forniti dalla cabina di regia la situazione nei reparti ordinari, negli ospedali, ma rispetto alla settimana scorsa la lente resta ferma sulle terapie intensive. Sentiamo Michelangelo Russo. Dopo l'impennata delle settimane scorse anche la cabina di regia conferma la tendenza al calo dei contagi in Basilicata, discesa che nel giro delle ultime due settimane si è fatta più evidente con un'incidenza, segnalano da Roma, quasi dimezzata rispetto a inizio luglio. Dai 1.280 di allora ai 772 casi ogni 100.000 abitanti tra il 22 e il 28 luglio. Un dato che resta leggermente più alto rispetto alla media nazionale, ma c'è da fare ancora i conti con la pressione ospedaliera. Ritenuta ancora alta, se a livello nazionale il tasso di ospedalizzazione è al 17%, in area non critica i ricoveri sono superiori alla soglia del 15% in 14 regioni, compresa la Basilicata al 24,5%. Tuttavia rispetto ai sette giorni precedenti si registra anche a San Carlo e a Madonna delle Grazie un graduale miglioramento. Disaggi più marcati in ogni caso in Umbria, dove i letti sono occupati al 44% da pazienti Covid, e in Calabria al 36%. Di contro le terapie intensive non sono più vuote come la settimana scorsa. In Basilicata infatti occupati il 4,8% dei posti letto contro una media del 4,1%. In attesa del bollettino pomeridiano, ieri sono state 543 le positività nuove accertate tra i residenti, a fronte di 2.106 tamponi processati, con un tasso di positività stabile sempre al 25%. Due le persone che non ce l'hanno fatta a perdere la vita al San Carlo, un uomo di 88 anni di Laurenzana e un uomo di 84 anni di potenza, 934 in tutto le vittime dall'inizio della pandemia. Sono invece 642 i guariti riportati nell'ultimo report regionale, con il numero degli attualmente positivi che è sceso nuovamente sotto quota 14.000. Ancora un blackout ieri sera nell'area industriale di San Nicola di Melfi, tanto da costringere lo stop all'attività nello stabilimento Stellantis. Il guasto pare abbia interessato sia la media tensione Enel, sia la rete Eterna che serve l'industria automobilistica. I lavoratori dell'ultimo turno, quello con inizio alle 22, sono tornati a casa non senza problemi per coloro che si recano al lavoro con i pullman. La produzione è ripresa con il turno delle 6 di questa mattina. A Potenza è giallo sulla morte di Vito Vaccaro, che nel lontano 1999 uccise la sua professoressa delle scuole medie. L'uomo è stato ritrovato morto in casa, in circostanze ancora da chiarire. A pochi giorni dopo il funerale, la procura ha fatto scattare la riesumazione. Sentiamo Fabrizio Di Vito. E' avvolta nel mistero la morte di Vito Vaccaro, 43 anni, trovato senza vita all'interno di un appartamento a Potenza, lo scorso 18 luglio, in circostanze da chiarire. E ieri mattina, su ordine del procuratore Francesco Curcio, che ha firmato l'apposito decreto di disseppellimento, a pochi giorni di distanza dalle sequie dell'uomo, si è proceduto all'esumazione straordinaria della Salma, presso il cimitero Giovanni Paolo II di Potenza. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che una decina di giorni fa era intervenuta all'interno dell'appartamento, dove era stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo. I primi accertamenti del medico legale avevano già individuato nell'assunzione di sostanze stupefacenti la possibile causa del decesso, ma la Salma non era stata posta sotto sequestro per l'esecuzione dell'autopsia, provvedimento invece disposto lo scorso 26 luglio dalla Procura di Potenza sulla base di nuovi elementi investigativi. E al momento l'ipotesi di reato alla quale lavorano gli inquirenti è quella di morte come conseguenza di altro delitto. E' presumibile quindi che gli inquirenti abbiano raccolto una serie di elementi che facciano pensare al coinvolgimento di una o più persone nelle circostanze che hanno portato al decesso di Vaccaro. L'autopsia servirà a chiarire l'esatta causa del decesso, potrebbe essersi trattato di overdose, ma anche di una partita di droga tagliata male. Il nome della vittima non è nuovo alle cronache giudiziarie. Vito Vaccaro nel 1999 si era reso protagonista insieme ad un amico dell'omicidio di Carolina Daraio, 56 anni, la sua insegnante delle scuole medie, delitto per il quale era stato condannato a 21 anni di reclusione. L'altro giovane fu condannato a 18 anni e raccontò di essere fuggito spaventato da quella casa. Si tolse la vita nel 2008 all'età di 30 anni nei boschi tra Massa e Carrara durante un permesso di semilibertà. E proseguiamo con la cronaca giudiziaria. Trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale Aldo Gubitosi, presidente del Tribunale del Riesame di Potenza, lo ha deciso il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Plenum ha approvato a maggioranza la delibera della prima commissione. A base della decisione alcune intercettazioni che rivelano i suoi rapporti con Angelo Salinardi, imprenditore ed ex sindaco di Ruoti, arrestato con l'accusa tra l'altro di corruzione e stalking ai danni dell'ex sindaca Anna Maria Scalise e la sua richiesta di astenersi dal collegio che avrebbe dovuto decidere sul ricorso di Salinardi contro i domiciliari i quali era stato sottoposto, nella quale Gubitosi si era limitato a descrivere un rapporto di conoscenza sporadica e occasionale, frequentazione, tanto che la stessa richiesta era stata respinta dalle intercettazioni, sono emersi contatti stretti e la confidenza era tale da consentire di dialogare con commenti anche non piacevoli relativi ad altri magistrati, circostanze che per il CSM hanno determinato una grave perdita di imparzialità e indipendenza del magistrato. dal CSM è arrivato l'ok anche alla richiesta volontaria di trasferimento avanzata dal presidente del collegio penale del B del Tribunale di Potenza Federico Sergi, sempre per alcune intercettazioni con l'imprenditore di Ruoti. Voltiamo pagina ieri nella cornice naturale della Perla del Tirreno, la seconda giornata del premio internazionale marateale a catturare l'attenzione del pubblico del Santa Venere, Elodie nella veste di attrice per la sua partecipazione al film Ti mangio il cuore, alla pellicola vecchio del regista e autore lucano Dino Lopardo è andato il premio marateale in short. Sentiamo Isabella D'Andrea. Una grandissima occasione per cimentarsi in qualcosa di diverso, con queste parole ma anche con la sua bellezza, Elodie ha catturato l'attenzione del pubblico della seconda giornata di marateale, premio internazionale Basilicata. in programma fino a domenica a Maratea, nella cornice del Teatro sul Mare dell'Hotel Santa Venere. La cantante romana al suo esordio al cinema con il film Ti mangio il cuore del regista pugliese Pippo Mezzapesa, in concorso alla rassegna internazionale di cinema di Venezia, ha parlato della pellicola assieme al produttore Nicola Giuliano. Intervistata da Sabino Zaba, Elodie per la prima volta nella bella Maratea, ha raccontato di aver messo tutta se stessa in questa nuova avventura cinematografica. Altro momento atteso della serata, la premiazione del cortometraggio vincitore del concorso Maratea Lane Short, con l'attore e regista lucano Rocco Papaleo, Paridele Porace e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Il primo premio è andato a vecchio, l'ultimo short film del regista e autore lucano Dino Lopardo. In conclusione di serata, prima di Elodie, sono salite sul palco due star di Bollywood, Chadda Richa e Fasala Lee, che a Sabino Zaba hanno raccontato del loro lavoro in India. La serata si è aperta con un dibattito sul ruolo dei gal e del flag per la promozione del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. A seguire la presentazione del progetto Young Blood con Alice nella città e We Do e l'incontro con i primi dieci giovani finalisti. Sul palco poi la presentazione a cura della giornalista Sky Barbara Tarricone Hamilton del film Io e mio fratello alla presenza di Romolo Guerrieri, Ilaria Rossi, Luca Lucini e Greta Ferro e della pellicola Tra le onde con Sveval Viti e Simonetta Menta. Il piano strategico nazionale Grandi Progetti Culturali si arricchisce di 28 nuovi progetti in tutta Italia con risorse aggiuntive per ulteriori 106 milioni di euro. In questo contesto rientra il piano di restauro e la valorizzazione del Museo archeologico nazionale di potenza Dino Adamesteano. Nella sede di Palazzo Loffredo per un finanziamento del MIC di 4 milioni di euro. I lavori riguarderanno nello specifico ambienti interni e aree esterne ripristino delle coperture, degli infissi e degli impianti per riportare il fabbricato alla piena e completa fruibilità. Siamo allo sport calcio di serie C. Il Picerno continua a mettere minuti nelle gambe. Ieri pomeriggio al Curcio triangolare con la primavera del club Melandrine. Melandrine è una rappresentativa locale. Buone indicazioni dai nuovi, anche un capitane esposito in grande spolvero, come ci racconta Alessandro Panuccio. E un piceno nel segno del numero 14, quello di Mister Longo. Dopo il primo test amichevole di domenica scorsa, altre 14 reti nella seconda uscita al Curcio. Ma questa volta spalmate sulle due gare del triangolare contro una rappresentativa lucana e contro la primavera del club Rosso Blu. In grande spolvero nell'uscita con la rappresentativa locale Sant'Arcangelo, autore di una tripletta. Due centri anche per capitane esposito e d'Angelo ad arrotondare le marcature di Allegretto e Liurni. Un'occasione anche per i tifosi, accorsi per vedere in azione l'ultimo arrivato, Rashid Khoda, ex folgore caratese, subito a segno con una doppietta nell'altra gara, quella contro la primavera. E anche questa seconda sgambata, due reti per esposito e cinquina completata da Sant'Arcangelo. I nuovi arrivi compongono la squadra, quindi è la squadra nella sua interezza che ha fatto bene. Se qualcuno si è messo in evidenza è sempre grazie all'organizzazione di squadra. Questo sarà un punto fondamentale sul nostro cammino. Coniughiamo tutti quanti noi, io davanti a tutti, e quindi dobbiamo essere contenti quando qualcuno riesce a mettere a disposizione la propria qualità per l'interesse del gruppo. Quindi questa è la cosa fondamentale. Si esaltano singolarmente, ma in realtà è la squadra che dà la forza a tutti di poter esprimere il meglio. Dunque, altre buone indicazioni per Mister Longo. I ragazzi stanno dimostrando dall'inizio questo tipo di propensione al lavoro. Sono disponibili, hanno, mi ripeterò, hanno la cultura del lavoro. Quindi ho trovato un gruppo da questo punto di vista con basi solide. Oggi avevamo previsto nel nostro programma siamo amichevoli, la prima che ci facesse ritrovare ancora di più il calore del nostro pubblico, della città, e quindi questa azione sociale che ha ripetuto la società. E poi anche conoscere la squadra Primavera, a cui faccio i complimenti, all'organizzazione, al tecnico, alla dirigenza, che ha formato anche un buon gruppo di squadra Primavera. Per quanto ci riguarda, questo era un ulteriore scalino sulla scala che ci deve portare poi all'intesa delle idee di gioco. Quindi sono soddisfatto, mi piace la disponibilità del nostro gruppo. E anche i veterani si dicono già fiduciosi. La grinta è quella che non deve mai mancare. Come è stato anche l'anno scorso, abbiamo fatto un buon campionato, soprattutto su questo, sulla grinta, sull'entusiasmo, sulla fame di mettere sempre sul campo. E poi se metti già questo sul campo è già un inizio importante. Poi pian piano, con lo staff, con il mister, andremo sempre a migliorare. Il mister è soprattutto un ottimo allenatore, ma anche una bravissima persona, che si è presentato molto bene. Sia lui che tutto lo staff, il mister in secondo, il prof, tutti insieme. Ci stanno aiutando, ci mettono ogni giorno che passa nelle migliori condizioni per far meglio e per migliorarci. Bene, è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione. Alle 17 con il nostro TG Flash, prima della seconda edizione del nostro telegiornale studio, quella delle 19. grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Salve a tutti per ritrovare. Siamo arrivati all'appuntamento meteo sui programmi della Nuova TV per dare una visione di questa tendenza nel fine settimana, una tendenza che vede un poco di temperature in calo, soprattutto grazie alle forti piogge che hanno interessato la nostra regione nei giorni scorsi, ma anche all'aria più fresca che comincerà a arrivare da nord, quindi una situazione di minor sofferenza, tanto che le temperature si riporteranno per qualche giorno nelle medie stagionali e questa è sicuramente una bella notizia. Ieri c'è stata tanta pioggia sulle zone occidentali del Potentino, mentre ricordate nei giorni scorsi aveva colpito, le piogge avevano colpito l'area nord, l'area del Materano, la parte sud. Voglio farvi vedere una cartina dei temporali, proprio di ieri pomeriggio si sono formate una cellula molto forte, una cellula temporalesca nell'Alta Val d'Agri, si espansa leggermente verso nord, ha colpito l'area del lago di Pantano di Pignolo, dove sono caduti in alcune zone circa 45-50 mm in pochissimo tempo, altra pioggia forte è caduta su Pergola di Marsiconuovo, su Brienza e su tutta quella fascia dove il colore giallo o rosso è stato presente, lì significa che ci sono stati temporali fenomeni molto violenti, anche con delle grandinate, invece dove vedete la fascia, un colore più blu sul celeste, le piogge sono state praticamente più deboli o in alcuni casi anche assenti. Diversa questione per il resto della regione, dove non ci sono stati fenomeni ieri, ma ricordate altro ieri, invece tutta la fascia orientale era stata colpita da forti temporali. L'immagine del satellite di stamattina, più o meno vediamo l'immagine attuale, è quella di una nuvolosità presente su tutta l'Europa centro-settentrionale, a parte qualche eccezione, mentre la parte meridionale vede una situazione di alta pressione, quindi le perturbazioni riescono ad arrivare fino alla Francia, ma poi trovano l'ostacolo delle Alpi, qualche infiltrazione anche sul nord Italia, dove tra oggi e domani ci saranno dei temporali, invece molto meno probabili dei fenomeni sul resto dell'Italia. Vediamo ora la previsione con la cartina di Meteo 7, per quanto riguarda il resto della giornata di oggi, si stanno formando dei piccoli cumulonembi, quindi il cielo andrà leggermente comprendosi alcune zone interne, ma difficilmente ci saranno dei rovesci, infatti non viene indicato neanche dalla cartina, comunque oggi è una giornata all'insegna della maggiore stabilità dopo le forti piogge di ieri, qualche rovescio ci potrebbe scappare proprio nelle prossime ore, nelle zone dove ieri è piovuto, ma difficilmente questa cosa si verificerà, la probabilità è piuttosto bassa. Le temperature si sono leggermente, si alzano di circa un grado rispetto a ieri, nulla di più, siamo su valori alti, sopra le medie, ma valori comunque accettabili, con una ventilazione che è praticamente settentrionale, di debole intensità, con mari che sono tranquilli, calmi o quasi calmi. Vediamo la giornata di domani, quindi vediamo questo weekend, l'ultimo weekend di luglio, come si prospetta, una giornata all'insegna del bel tempo su tutta la nostra regione, avremo un aumento della nuvolosità, però maggiore rispetto ad oggi, una nuvolosità che nel pomeriggio potrebbe dar luogo a qualche fenomeno, soprattutto proprio nel centro della regione sono previsti i fenomeni, quindi non sono stati indicati, ma comunque sono possibili domani, una probabilità che sale leggermente, quindi qualche rovescio, non si può escludere nella giornata di domani. Le temperature per domani sono stazionari su valori ancora di 5 gradi al di sopra delle medie, ma comunque su valori non pericolosi, con 32 gradi a potenza di massima, 34 a Matera, però se vedete le minime nelle zone interne dove non arriva la mitigazione da parte del mare, nelle zone interne sono sotto i 20 gradi e questo è un buon segnale, significa che non abbiamo correnti da sud, perché in caso di correnti da sud le minime difficilmente scendono sotto i 26-27 gradi anche di notte, invece bene o male di notte si riesce a scendere su valori sicuramente accettabili. Vediamo la domenica, una situazione che vede ancora una volta cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, poi nel corso del pomeriggio un maggiore sviluppo di nubi cumuliformi che con i venti da nord dovrebbero portarsi poi verso il sud della regione dove non si escludono quindi qualche isolato fenomeno, quello che subito viene risalto è la temperatura che è in calo per quanto riguarda la giornata di domenica, vedete, a parte i valori minimi che tornano nelle medie stagionali, insomma siamo su intorno ai 17-18 gradi sulle zone interne, parliamo delle massime, come vedete nessun valore sulla provincia di Potenza supera i 30 gradi e non li raggiunge nemmeno, parliamo di massime, mentre superiamo i 30 gradi di qualche grado sulla parte orientale, quindi solo le coste proprio ioniche avranno ancora temperature piuttosto alte, ma non sicuramente 40 gradi, come vedete 33-34 sono valori sicuramente accettabili, la ventilazione è sempre debole da nord con mari che risultano ancora una volta calmi o quasi calmi. vediamo il mese di agosto, quindi inizierà con una situazione di tempo buono per quanto riguarda la giornata di lunedì, cielo sereno, la maggiore stabilizzazione sia in quota che al suolo dell'atmosfera non dovrebbe favorire lo sviluppo di nubi cumuliformi, quindi per lunedì il cielo dovrebbe rimanere sereno, al massimo qualche cumulo innocuo nel corso del pomeriggio, ma nonostante il cielo sereno, vedete le temperature, con i venti da nord, finisce quest'incubo dell'alta pressione africana, con i venti da nord, le temperature si portano su valori che sono tipici della prima decada di agosto, che il periodo più caldo dell'anno al sud dovrebbe essere proprio tra l'ultima decada di luglio e la prima decada di agosto, quindi ecco i valori che sono più o meno nella norma, 28 gradi la massima potenza, 30 gradi a materia, come vedete valori finalmente accettabili, valori che sono nelle medie, nessun valore particolarmente alto sul resto della regione, di notte farà piuttosto fresco, ma ci avviciniamo semplicemente alle medie stagionali, quindi intorno ai 15-16 gradi, nei fondovalli appenninici sicuramente qualche gradi in meno, quindi non è escluso che in alcuni centri posti in valle come Brienza, come Sarconi, ecco per fare un esempio, potremmo andare vicino ai 10 gradi di minimo, quindi valori piuttosto freschi, quindi lo sanno gli abitanti di quelle zone, si coprono di più durante la sera, tardi, la notte, però durante il giorno poi i valori tornano a essere in media con gli altri centri della regione. L'ultimo grafico è quello degli spaghetti, spaghetti che ci fanno notare ancora temperature piuttosto sopra la media per oggi e per domani, poi domenica un calo netto delle temperature, temperature che vedete per poi per 2, 3, 4 giorni saranno vicine alle medie del periodo, poi forse probabilmente c'è un nuovo aumento delle temperature, ma sempre nei limiti della sopportabilità, nessuna andata di caldo all'orizzonte, ve lo dico subito. Per quanto riguarda le precipitazioni, qualcosina i modelli portano, vedete tra sabato e domenica, proprio la giornata di domenica nelle zone interne, poi calma di precipitazioni per un po' di giorni e potrebbero ripresentarsi verso 3, 4, 5 agosto, da vedere verso il 5 agosto effettivamente potrebbe esserci un ritorno a qualche fase di instabilità, naturalmente poi giornalmente va vista questa situazione, vi do appuntamento a venerdì prossimo, per il mese di agosto non ci sarà l'appuntamento mattutino, quindi per venerdì prossimo faremo il punto alla situazione, però vi anticipo che a lungo termine non ci sono andate di caldo imminenti, quindi questo è un bel fattore, un buon segnale, soprattutto per quanto riguarda gli incendi, quindi le piogge magari non ci saranno tanto nei prossimi giorni, ma sicuramente non avremo quel caldo asfissiato. È tutto, non mi resta che augurarvi un buon weekend, un buon proseguimento con i programmi della Nuova TV e arrivederci, a venerdì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.